Capitolo 26. Negozio i termini della mia disintegrazione. Nel ramo dei semidei la chiamiamo domanda tra bocchetto. Se avessi rifiutato, sarei stato polverizzato. Se avessi accettato, avrei dovuto lottare contro un vecchio e poi sarei stato polverizzato. Guardando Gary trovavo difficile concentrarmi e non solo per via del perizoma lurido o della bocca sdentata. La sua presenza mi rendeva claustrofobico dentro il mio stesso corpo. Il sangue mi ruggiva nelle orecchie. Mi cominciarono a sudare le mani. Dovetti lottare contro una sensazione di panico, come se la mia carne avesse già iniziato a sgretolarsi. Capì perché anche una dea come Iride potesse avere paura di lui. Una cosa è l'immortalità, tutt'altra è essere vecchio per sempre. Altre divinità preferivano sembrare giovani e belle. Gary ammetteva la sua età fino all'ultimo millennio. Immaginai che quando lo guardavano gli dei dell'Olimpo vedevano solo quanto erano antichi. Gary era come il quadro di quel tizio che non invecchia mai, ma il suo ritratto sì. Earl Grey? No, quello è un tipo di tè. Comunque sia, quella storia mi faceva venire la pelle d'oca. Niente di tutto questo mi aiutò a trovare una risposta. Gary mi fissava in trepidante attesa e così feci ricorso al mio potere divino da ultima spiaggia, la procrastinazione. Ho delle condizioni... Gary inclino la testa raggrinzita. Di salute precaria? No, condizioni per battermi contro di te. Primo, se perdo uccidi soltanto me. Lasci in pace i miei amici. La vecchiaia non lascia mai in pace nessuno. Sai cosa voglio dire? Non li riduci in polvere adesso, li lasci andare. Accettabile. Poi esitai. Dai, Percy, ci deve essere un poi. Quando dici che devo sconfiggerti, cosa intendi? Sei un dio, non posso ucciderti. Ovvio, giovane stolto. Gary fece un piccolo verso divertito. Se riesci a farmi toccare terra anche solo con un ginocchio, lo riterrò sufficiente. Io invece vincerò schiacciandoti la faccia contro l'asfalto. Così è più eco. È la prima parola che mi è venuta in mente, replicai. Eco. Nient'altro. Sì, mi lambiccai il cervello domandandomi quali altre richieste avrei dovuto fare. Una bottiglia d'acqua? Una ciotola di M&M's azzurre nel mio camerino? Avevo bisogno di Annabeth accanto a me che mi aiutasse a pensare. Oh, giusto, quella era una cosa che avrei potuto chiedere. Lascia andare i miei amici. L'hai già detto? No, ribattei. Voglio dire, lasciali andare adesso. Qualsiasi cosa tu gli stia facendo. Con un vago cenno della mano indicai Annabeth, che era ancora bloccata davanti alla partita di scacchi. Le ho solo rallentati, spiegò Gary. La vecchiaia lo fa con tutti. Li voglio qui, insistetti, per dirgli addio, se non altro. Qualunque cosa mi succeda voglio che ne siano testimoni. Questo non è uno sport che il pubblico ama, bofonchiò Gary. Era la prima volta che qualcuno faceva un'affermazione del genere sul wrestling. Vuoi batterti contro di me oppure no? Gli chiesi. Sentì che potevo azzardare quella domanda perché dallo scintillio nei suoi occhi intuì che non vedeva l'ora di schiacciarmi la faccia per terra. Non era il primo che aveva avuto quel desiderio. Ok, borbottò. Gary schioccò le dita ossute. Annabeth e Grover si sbloccarono. Si girarono verso di me e si tolsero dalle narici le zanne super attraenti di fazzolettine di carta al mentolo e corsero verso il parco giochi. Quando Annabeth ci raggiunse aveva già sguainato il pugnale. Grover stava brandendo una ciambella al sesamo nero come se fosse uno shuriken. Che cosa sta succedendo? chiese sollevandola quasi fosse pronto a trasformarsi in un assassino armato di ciambelle. Annabeth squadrò Gary poi imprecò sottovoce. Seras suppongo avrei dovuto capire che stavamo lottando contro la vecchiaia. Gary ridacchiò. Io avrei dovuto parlare prima con te signorina. Ovviamente sei tu la mente di questa operazione. È tutto a posto, dissi ai miei amici. Abbiamo trovato un accordo. Annabeth guardò il dio in cagnesco. Fammi indovinare. Una sfida a wrestling? Scusatemi, devo parlare un attimo con il mio cliente. Mi prese per un braccio e mi trascinò dall'altra parte del parco giochi. Dietro di noi udì Gary che chiedeva a Grover. Intendi mangiarla? Annabeth mi afferrò le spalle. Persi non puoi farlo. Ehi, non è una cosa che voglio fare. Non puoi sconfiggerlo. Avrei voluto ribattere che era la nostra migliore possibilità. Era molto meglio che essere trasformati tutti e tre in polvere. Ma dall'espressione di Annabeth capì che aveva già fatto i suoi calcoli. Era decisamente avanti. Come sempre. Ercole è riuscito a bloccarlo in uno scontro, continuò. Quella è stata l'unica volta in cui Geras ha dovuto dichiarare il pareggio. Sconfiggerlo è impossibile. Qual è stato il segreto di Ercole? Nessun segreto, solo forza bruta. Mi strofinai i bicipiti cercando di non sentirmi offeso. Non ero debole, decisamente, però la superforza non rientrava nella mia lista di poteri. Rispirare sott'acqua e parlare con i cavalli, invece sì, ma non erano molto utili in un duello nel parco giochi del Greenwich Village. Ci deve essere un altro modo. Una volta alla diga di Hoover, tua madre mi ha detto, c'è sempre una via d'uscita. Per chi è abbastanza sveglio da trovarla, concluse Annabeth. Sì, lo so, questo però... Geras è una forza della natura. È inevitabile, non puoi combattere la vecchiaia. A meno che tu non sia immortale, pensai. Eppure era proprio per questo che Geras aveva rubato il calice. Permetteva di ingannare e aggirare il sistema. E il dio non aveva torto. L'immortalità è una maledizione. Gli dèi sono le persone più incasinate che io abbia mai conosciuto. Hanno avuto tutti i secoli a disposizione per risolvere i loro problemi, eppure non l'hanno fatto. Certo, ogni tanto si cambiavano d'abito e modernizzavano il loro stile di vita. Ma in fondo erano ancora uguali a come erano nell'età del bronzo. Una sensazione di pesantezza mi si piantò nello stomaco. Non capivo se era disperazione, un desiderio disperato di agire o la ciambella. In quella battaglia ero schierato dalla parte sbagliata. Se me ne fossi andato e avessi lasciato il calice a Gary, Garimede avrebbe potuto essere svergognato ed esiliato dall'Olimpo. Sarebbe stato così grave. Gli dèi avrebbero dovuto versarsi le bevande da soli. Avrebbero avuto uno strumento in meno per creare nuovi immortali. Ganimede avrebbe potuto trovare lavoro al Limbo Joyce. Forse Gary mi avrebbe perfino scritto una lettera di presentazione, lodandomi per aver abbracciato il mio scorbutico vecchietto interiore. Ganimede però aveva scelto me per questa impresa. Tralasciando il fatto che ogni dio sceglie me per ogni impresa, mi sentivo obbligato a mantenere la promessa. Mi tornò in mente com'era nervoso il povero coppiere al Limbo Joyce. Il modo in cui si era infilato sotto il tavolo quando aveva temuto che il frappè gusto aquila dorata di Zeus piombasse impicchiata su di lui. Sì, era traumatizzato e triste. Forse sarebbe stato meglio rispedirlo a calci nel mondo mortale, ma non mi aveva chiesto di liberarlo dal Monte Olimpo. Mi aveva chiesto di recuperare la coppa. Se avessi scelto di distruggergli la vita per il suo stesso bene e senza il suo consenso, non sarei stato migliore di Zeus. Ognuno deve avere il diritto di rovinarsi la vita senza che nessuno gliela rovini al posto suo. Devo farlo, dissi ad Annabeth. Credo di poter trovare un sistema per… Lei mi scrutò in viso, forse domandandosi se avrebbe dovuto ficcarmi in testa un po' di buonsenso con l'elsa del pugnale. Alla fine sospirò. Sta a te decidere, ma non sottovalutarlo per il suo aspetto, Percy. Mi metteva a disagio quando mi chiamava Percy invece di testa d'alghe. Voleva dire che avevamo superato di gran lunga il punto in cui non poteva fare a meno di sottolineare quanto mi comportassi da idiota. Tornammo alla struttura da arrampicata. Gary stava biascicando una ciambella integrale alla frutta e Grover lo guardava inorridito. Per qualche motivo gli zuccherini arcobaleno intorno alla bocca del dio lo facevano sembrare ancora più vecchio. Pronto a dire addio ai tuoi amici? Mi chiese Gary. Scossi la testa. Niente addi per ora. Confermiamo le regole di ingaggio. Tu e io lottiamo uno contro uno. Se tu mi schiacci la faccia per terra io perdo. Vengo ridotto in polvere eccetera eccetera. Se io riesco a farti toccare l'asfalto con un ginocchio tu mi consegni il calice e ci lasci in pace. In entrambi i casi quando tutto sarà finito i miei amici saranno liberi di andarsene. Il patto è questo concordò Gary. Anche se visto che perderai la maggior parte delle clausole sono, come si dice, irrilevanti. Irrilevante sarai tu, bofunchiai, perché sono micidiale nei botte risposta. Oppure potresti scambiare il calice con queste ciambelle avanzate, intervenne Grover. Agitò il coperchio della scatola diffondendo il profumo di moci verso il dio. Poi ognuno può andare per la sua strada. Ne ho altre due al sesamo nero e una al pistacchio. Gary sembrò prendere in considerazione l'offerta. Per come la vedo io, in un sistema di baratto post-apocalisse, le ciambelle di moci varrebbero quasi quanto i calici magici. Pensai che forse Grover ci aveva visto giusto. Stava per rendere la mia vita molto più semplice e anche più lunga. Poi Gary scosse la testa. Ci atterremo all'accordo iniziale. Bene, borbottai. Quando cominciamo? Non ebbi nemmeno il tempo di respirare. All'improvviso Gary mi saltò sulla schiena, le mani come morse d'acciaio sulle spalle, le gambe strette intorno alla cassa toracica, i calcagni conficcati nello stomaco, come se fossi un cavallo poco collaborativo. Mi